Ciao ragazze, oggi faremo un tutorial su grigio e fucsia Ciao ragazze, oggi parleremo dei miei prodotti preferiti Ciao ragazzi, mi illumino d'immenso Oggi parleremo dei miei prodotti lucicosi per il make-up Questo era solamente per introdurre questo make-up tutorial Che è di sole d'azzurro come la famosissima canzone di Giorgia Ciao a tutti, oggi parleremo della mia collezione di smalti Premetto, io adoro la Kiko che voi già, secondo me, lo sapete Anche dai video precedenti Io ho praticamente quasi tutti i smalti Kiko Ciao ragazzi, oggi parleremo dei miei rossetti preferiti Ciao a tutti, oggi parlerò della mia collezione di gloss Ciao ragazze, oggi faremo un tutorial oro e nero Io già ho fatto un occhio, adesso passiamo a fare anche l'altro Ciao a tutti, benvenuta sul mio canale Questo è un canale che parlerà di make-up, capelli, vestiti, video-vlog Ciao a tutti, oggi faremo un tutorial sui toni del marrone Ciao a tutti, oggi voglio farvi la review dei miei fondotinta I fondotinta che io utilizzo Ciao a tutti, oggi faremo un tutorial sul trucco occhi minimal Ciao ragazze, oggi parleremo dei miei primer Quelli che ho attualmente con me Sia che utilizzo, sia che sono risultati una ciofega Ciao a tutti Ciao a tutti, lo so che mi state vedendo continuamente Vestita sempre allo stesso modo Ma sto facendo e in questa giornata Qua sto caricando qualche video nuovo Ma ciao a tutte Allora, siamo ancora qui Sono ancora vestita così per l'ultimo video di questa giornata Quanti ne stanno cadendo? Mamma mia, mancano 20 giorni a Natale Ragazzi, siamo tutti in trepidazione Non vediamo l'ora che arrivi il 25, anzi il 24 notte per aprire i regalucci Ciao ragazze, oggi faremo un tutorial velocissimo Allora, il tutorial occhi sarà basato sui toni del dorato Ciao ragazze, sono qua sotto l'albero L'albero virtuale ovviamente E per proporvi un nuovo tutorial di natalizio, insomma, festivo Ciao ragazze, oggi parleremo di come ho schiarito i miei capelli Ciao ragazze, sono ancora così, ancora vestita così Perché nel video precedente, questo qui, abbiamo parlato di capelli, di schiaritura di capelli Adesso, dato che è collegato l'argomento, vi voglio parlare dei miei prodotti che utilizzo sui capelli Ciao ragazze, mi trovate ancora vestita così perché oggi tema capelli E quindi facciamo l'ultimo video sui famosi bigodini brasiliano Ciao ragazze, ciao ragazze, oggi faremo un tutorial sui toni del verde Ciao ragazze, ciao ragazze, oggi faremo un tutorial sui toni del verde Ciao ragazze, oggi parleremo dell'ombre air o chatush, chatush come si dice, si suol dire Ho già messo la mia base primer, andiamo con il primo colore Ciao ragazze, oggi faremo un trucco sempre ispirato al Natale E' un trucco molto easy, quindi molto facile da realizzare Con la variante, invece che labbra rosse, facciamo le labbra fucsia Ciao ragazze, tempo di shopping Sotto Natale, ovviamente, in questi giorni anch'io ho fatto un po' di spese Ho fatto alcuni acquisti riguardanti il make up E con mia sorpresa ho trovato una nuova linea di make up professionale molto buona ed economica Ciao ragazze, oggi faremo un tutorial sempre in tema natalizio Ho un trucco sui toni dello champagne e del cashmere Ciao ragazze, oggi vi voglio parlare dei miei prodotti per il bagno e per la doccia Ciao ragazze, oggi faremo una palette fai da te Praticamente utilizzerò questa scatoletta delle matite Ciao ragazze, oggi faremo un altro tutorial ispirato alle feste natalizie Adesso siamo andando per Capodanno, quindi diciamo che sei ispirato alle feste di Capodanno Spero che vi piaccia il video, vi lascio il tutorial Un bacione, ciao! Ciao ragazze, oggi facciamo un trucco utilizzando semplicemente questa palette Questa palette della Pupa, non so se ve la ricordate Ciao ragazze, oggi vi parlerò dei miei regalini di Natale Dei miei regalini che ho ricevuto Ciao ragazze, oggi vi farò vedere un trucco col trucchetto Ciao ragazze, oggi faremo il video sui miei preferiti 2013 Allora iniziamo subito Ciao ragazze, benvenute nel mio bagno Oggi facciamo un cambio di look in due parti Quindi la prima parte si dedicherà al cambio di colore della radice Ciao ragazze, eccoci qua per la seconda parte del video del cambiamento look capelli Ciao a tutte In questo video, allora questo sarà il primo video chiacchiericcio di tutti i miei video che ho fatto Allora, ciao ragazze, oggi parleremo di shopping Ieri mi sono trovata al centro commerciale insieme al mio fidanzato E ho fatto l'occasione per fare un pochino di spesa Ciao ragazze, in questo video parleremo di tatuaggi Allora, sì, ebbene sì, anch'io ce li ho Anche se non si vedono perché sono nascosti Ciao ragazze, oggi faremo un tutorial con i colori del tramonto Utilizzerò prevalentemente questi pigmenti della Kiko Ciao ragazze, oggi video tag e piccola premessa Mi stunco che ho fatto oggi che non ho fatto il tutorial perché era un esperimento Ciao ragazze, oggi video tag, parliamone Ho visto che molte di voi l'hanno fatto e volevo provare a farlo anch'io Ciao ragazze, oggi faremo un tag Un tag che sto vedendo in giro molto su Youtube Ed è l'All About Eyes Praticamente tutto quello che riguarda gli occhi Ciao ragazze, oggi vi mostrerò come applicare i Magic Leberag I famosi bigodini brasiliani di cui ne ho parlato anche in un video precedente Ciao ragazze Sentite cosa c'è in sottofondo Chi ha visto burlesque sicuramente lo sa Ok, questo per anticiparvi il tutorial di oggi Ciao ragazze, oggi sempre in tema di burlesque Lo so, io mi sono innamorata letteralmente di quel film Perché veramente, a parte la trama che è bellissima E poi Cristina Aguilera sfoggia dei make up e dei vestiti stupendi Ciao ragazze, mi trovate ancora truccata così Perché avevo appena finito di girare i tutorial sul trucco di Cristina Aguilera Allora, vi volevo parlare in questo video di trucchi, sì, di prodotti fai da te Ciao ragazze, eccomi ancora qua Questo è l'ultimo video di questa giornata E volevo fare in video tag la mia postazione make up Ciao ragazze, oggi parleremo del mai più senza Quindi dei prodotti di cui non possiamo fare a meno di averli in casa Ciao ragazze, questo video sarà un video chiacchiericcio Mentre mi trucco, sto preparando che devo uscire Allora, non vi dirò neanche quello che faccio Perché tanto è un trucco semplice e veloce Quindi nulla di che Ciao ragazze Sono tornata adesso adesso dal pomeriggio di shopping Sono andata al centro commerciale con il mio fidanzato E ho comprato un po' di cosine Ancora non le ho perse Quindi volevo proprio, c'ho ancora i pacchettini Tenete C'ho ancora i pacchettini Ciao ragazze Video tag, la storia dei miei capelli Allora, iniziamo subito con le domande Ciao ragazze Oggi farò il tag, il video tag 20 domande Questo video tag è in collaborazione con un'altra ragazza che fa video Anche lei ha un canale su YouTube È dolcissima e bravissima Vi lascio il suo canale nell'info box Lei si chiama Patti Cat E le mando un bacio, la saluto Ciao bella Ciao ragazze Mi vedete truccata così Perché questo è un video in collaborazione con altre tre bellissime ragazze Cristina, Deborah e Patrizia Nell'info box vi lascerò i loro canali E a fine video vi lascerò gli altri tre video collegati a questo video Questo è un video sorpresa, diciamo Un video dedicato alla diva del tubo, ad Alicia Ciao ragazze In questo video diciamo che è the new begin Perché ho cambiato fotocamera come avete potuto, come potete vedere Adesso ho una risoluzione migliore E niente, ci ho messo un po' di tempo per capire come funzionava Dato che non avevo mai avuto esperienze con fotocamere, con videocamere, scusate, digitali Ciao ragazze Oggi facciamo un video sui miei prodotti preferiti di gennaio Sono dei prodotti, alcuni li ho riscoperti e altri li ho acquistati E quindi ho avuto modo un attimino di testarli, di provarli Ciao ragazze Oggi farò un video recensione su alcuni prodotti Alcuni glazing brush Praticamente le spazzoline che servono per detergere il viso Ciao ragazze Oggi farò un video tutorial su come realizzare un trucco cyborg e labbra cartoon animato Ciao ragazze In questo video chianchiericcio vorrei parlarvi, come avete potuto leggere dal titolo, di un argomento un po' particolare Nel questo video tutorial voglio ricreare un trucco basico, un trucco molto semplice Basato sui toni del marrone Oggi farò un video tag se io fossi Allora, come prima domanda ce l'ho scritto sul cellulare Quindi guarderò il cellulare E farò il video tag Cosa c'è nella mia borsa Allora, questa è la mia borsa Com'era quella frase? Una donna senza trucco è come un maritozzo senza panna Grande gnappetta Allora, questo è un video dedica, come molte altre hanno fatto, alla nostra mia petta, mia cellini Che è entrata quest'anno al grande fratello 13 Ciao ragazze Oggi parlerò di un rimedio miracoloso per riparare le punte rovinate dei capelli Ciao ragazze, in questo video vi farò la haul dei miei ultimi acquistini Del mio ultimo shopping fatto per capelli, viso e corpo Come primo prodotto vi voglio far vedere In questo video vorrei parlarvi dell'applicazione delle ciglia finte Allora, dunque, io vi farò vedere queste qua della Essence In questo video volevo annunciarvi due cose importanti Allora, la prima cosa Ciao ragazze, oggi farò un video tutorial Su come realizzare un trucco semplicissimo Basato sui toni neutral, quindi toni naturali del beige, marrone, eccetera In questo video farò il tag tutto su di me Quello che, diciamo, sta andando molto in questo periodo Sto vedendo molte ragazze che lo stanno facendo su YouTube Oggi farò una haul dei miei acquistini della Kiko Li ho lasciate ancora nella confezione della bustina Con tutte le sue scatoline Sono praticamente tre giorni che ce l'ho davanti E non li utilizzo perché volevo aprirli insieme a voi Oggi parleremo dei miei acquistini I miei nuovi acquisti Quindi sarà un video haul Allora, sì, oggi non mi vedete Mi vedete senza le mie extension Perché le ho lavate Le ho messe a asciugare fuori Quindi poi ho scurito leggermente i capelli E in questo video voglio farvi una recensione Quindi sarà un video review Su due prodotti di cui mi sto trovando veramente bene Allora, oggi vorrei parlarvi di un argomento Abbastanza naturale Quindi parliamo di Enne Ragazzi, oggi faremo un tag, un video tag sulla primavera Praticamente il tag spring In questo video farò un tag intitolato tag youtubiano E così l'ho trovato su alcuni blog su internet Sono 25 domande su di me Su di me, insomma, per conoscermi meglio E io così l'ho chiamato E oggi farò un video chiacchiericcio Quindi parleremo di dieta Ragazzi, in questo video voglio parlarvi di come ho sconfitto l'acne Ciao ragazze Oggi vi parlerò della ripigmentazione del capello Come potete vedere ho scurito un paio di toni Se non di più i miei capelli Oggi volevo parlare di un argomento Che penso possa interessare a molte di voi La chirurgia plastica Chirurgia plastica sì o no Se sono d'accordo o meno Oggi farò un video tag Che ho visto in giro per youtube E praticamente è il 40 beauty questions Ciao ragazze Eccoci qua Da me Ciao Ciao a tutte Per l'intervista doppia Ciao a tutte Benvenute nel mio canale Allora Oggi farò un video in collaborazione Con una ragazza Giorgia Che fa anche lei video su youtube Qui vi lascio il suo link Qui vi lascio il suo link Il suo canale si chiama Jo on the tube E farò un video tutorial Ispirato ai colori della primavera Ciao a tutti Ciao a tutti E benvenuti sul mio canale Oggi farei molte le film tag Quindi le mie serie tv preferite In domande Ciao a tutti E benvenuti nel mio canale Allora Oggi parleremo di bellezza Praticamente come diventare belle Con tre semplici mosse Tre semplici step Ciao ragazzi Benvenuti nel mio canale Allora Oggi parleremo di capelli Di come far crescere velocemente Capelli Ciglia E sopracciglia Ciao a tutti Benvenuti nel mio canale Allora Con questo video Come da titolo Mi sono aggiunta anch'io A youtubers Uniamoci e collaboriamo Ciao a tutti E benvenuti nel mio canale Allora In questo video tutorial Voglio ricreare Un tutorial che ho visto E mi è piaciuto tantissimo Di una ragazza australiana Che seguo da tantissimo tempo E' troppo bellina Veramente Assomiglia Sembra una Barbie In carne e ossa Veramente troppo bellina Il suo canale si chiama Lauren Curtis E Tutti e benvenuti nel mio canale Oggi video chiacchiericcio Oggi praticamente Vi voglio parlare Di come ho eliminato Le cicatrici che avevo sul volto Tutti e benvenuti Nel mio canale Allora Questo è il video dedicato Alla mega collaborazione Di Fedi Chitti Per quanto riguarda Il video Face On the day Quindi faccio l'aggiorno Ciao a tutti E benvenuti nel mio canale Oggi farò un video I preferiti del momento Su Grande richiesta Di Klicius 91 Che io saluto Tantissimo Ciao Cristina Ciao Cri Mua Ti mando un grande bacio Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.